Allora rivederci, è un'esperienza, me la voglio vivere, voglio poter trascere ancora perché non si smette mai di imparare. A proposito di imparare, molto abbiamo avuto difficoltà, per voi tornerà utile aver superato le difficoltà? Assolutamente, era molto importante riuscire a tirarsi fuori dai momenti di difficoltà, sicuramente nella nostra prossima partita sicuramente ci troveremo lì, però l'importante è sapere rialzarsi insieme. Hai fatto 9 punti nel tie break? E' la partita della vita? Posso fare sempre meglio. Adesso c'è la Champions, Paola, una se dieci giorni per riprendersi. Sì, abbiamo dieci giorni per riposare, allenarci e arrivare sempre più pronti. Grazie, grazie.